E passiamo appunto alla nostra pagina dello sport, solidarietà fra oltrae. Escono fuori dei curiosi in retroscena dopo la giornata di domenica che ha visto gli scontri tra i tifosi di Cittavecchia e Casertana e la Polizia. Alcuni supporter nel Razzurri infatti nella post partita sono andati in commissariato per andare a esprimere solidarietà ai colleghi offrendo loro qualcosa da mangiare e da bere delle sigarette. Un modo per tenere buoni i rapporti tra le tifoserie in vista anche delle trasferte campane che si terranno. Dal fronte mercato ancora nessuna novità con la società di Clemeno che si sta muovendo per cercare un attaccante di qualità. Missione difficile visto che ormai tutti i calciatori più bravi hanno già squadre altrove. Si è tenuto oggi il turno di Coppa Italia in eccellenza di calcio, sedicesimi di finale. Il Ladispoli pareggia 1-1 contro il Valmontone come all'andata e ottiene il passaggio del turno ai rigori. La caninese disperduti invece perde 1-0 in casa contro il Tor Sapienza e saluta senza ramarico la competizione. Calciacinque turno di Coppa in serie C1 di Calciacinque che per usare un eufemismo sorride ai colori giallo-blu dell'Atletico Sacchetti. I gol di Fattori e Colaci regalano alla compagine Civitavecchiese un'importantissima vittoria sul campo di un'ardenza tutt'altro che irresistibile. È in programma per domani mattina alle 11 presso l'Hotel delle Muse in Roma la conferenza stampa di presentazione dell'evento pugilistico targato Round Zero, l'organizzazione che fa capo al manager Giulio Spagnoli. All'interno del meeting introduttivo della serata di venerdì in scena al palazzetto dello sport di Tor di Quinto verrà svelato il nome del pugile che il 30 novembre proverà a dare l'assalto al titolo mondiale IBO dei Leggeri di Emiliano Marsidi. Il Civitavecchiese ovviamente sarà protagonista anche venerdì quando incrocerà i guantoni con Santos Medrano in una contesa sulla distanza delle otto riprese propedeutica proprio al mondiale. La serata sarà valevole per la corona internazionale UEBC per supermediche vedrà sul ring Giovanni De Carolis opposto a Gevorg Kat Kikian. Alle 17 di domani sono previste le visite mediche e il peso. Ok, gli sniper semigrano ancora. La squadra di serie B di hockey in line della CV Scouting infatti giocherà le proprie partite casalinghe al campo di Borgata Aurelia dove grazie alla collaborazione con l'Asda Civitavecchia pattinaggio di Massimo Manni verrà ristrutturato il campo con fondi privati. Il tutto mentre al Palamercuri la situazione rimane in stallo e nella più totale e completa illegalità essendo la struttura sulla carta ancora in cantiere. Ma questa era l'ultima informazione per l'edizione del Tg Alto Lazio. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortesa attenzione. Arrivederci.